E' Martina Municchi, presidente del Consiglio di Giostra, la prima ospite del direttore Luca Caneschi nel salottino dell'Info Point sotto le loggie del Vasari in una puntata di Aspettando la Giostra che dedica i suoi collegamenti al quartiere di Porta Sant'Andrea con le iniziative curate da Coldiretti e la cucina a chilometri zero. Non credo che siano i turisti a rubare i biglietti però sento molto il malcontento anche da parte di persone a me vicine che il giorno stesso che iniziano le vendite dei biglietti non riescono a trovarle. Ecco quindi dovremmo sicuramente pensare a una disposizione probabilmente sia alla capienza stessa della piazza ma anche a localizzarla in maniera diversa ecco anche a creare punti che possano permettere di vivere tutta la città e non solo piazza grande. Intanto nel salotto si siede un cruciferino doc ovvero Don Alvaro Bardelli amatissimo però da tutti i quartieristi che fanno a gara ad invitarlo alle varie cene ed eventi. A me piace la giostra oltre che per sé ma perché coinvolge il mondo di Arezzo, la gioventù coinvolge tante persone e se vuoi bene a una persona vuoi bene anche a quello che ama la persona, gli interessi della persona e poi questo ti aiuta, ti facilita anche la strada per arrivare ancora di più al cuore delle persone. Per il collega Fausto Sarrini l'argomento non può che essere la festa per il centenario dell'Arezzo. È successo di tutto in questi cento anni, non è successa purtroppo una cosa che avremmo voluto tutti di fare almeno un anno di Serie A, speriamo di riuscirci nei secondi cento anni. A Riccardo Ciccarelli la linea per i giostratori di Sant'Andrea, Tommaso Marmorini e Saverio Montini e poi il momento che tutti aspettano la rubrica Giorgio lo sa con Giorgio Marmorini. Il problema di cavalli, di riserva, il problema di lasciare spazio alle giovani leve sono due cose importantissime perché questo lotto di otto giostratore è un lotto che è destinato nei prossimi anni a continuare. Bisogna costruire dietro le nuove situazioni, hanno bisogno di spazio. Grazie Grazie